Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Con noi c'è Sofia Marchionno, che è una brava cantante e ci aiuterà in questa canzone che è... Eppure sentire un senso di te, di Elisa. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi solamente, che sono Fa maggiore, quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do, forma il Fa maggiore, poi accanto avremo Sol maggiore, Sol, Si, Re, poi proprio il Do maggiore, Do, Mi, Sol, e avremo anche il La minore, quindi Do, Si, La, La, Do, Mi e questi sono gli accordi che ci saranno nella canzone e si alternerà Fa, Sol e Do, Fa, Sol e La minore. Vi facciamo ascoltare. Questo dura quattro. e quattro anche in La minore. e quattro anche in La minore. Paura di decidere paura di me di tutto quello che non so di tutto quello che non ho eppure sentire nei fiori tra l'asfalto nei cieli dico alto c'è eppure sentire nei sogni in fondo ho pianto nei giorni di silenzio c'è un senso di te eppure sentire nei sogni in fondo c'è un senso di te bene il tempo lo potete portare a quattro o dimezzarlo a due come ho fatto prima ma gli accordi restano sempre gli stessi bene come abbiamo visto anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoporte io ringrazio Sofia grazie a te e come sempre vi lascio in descrizione il testo c'è un link su dove trovare il testo con gli accordi poi altri due link per imparare gli accordi dal pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani ciao 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 alla prossima